Opportunità ai progetti dell'ecosistema campano in ambito Space Economy e PNRR. Li prevedono i programmi ESA Business Application e Incube che sono stati presentati alla città della scienza di Napoli. L'evento è organizzato dal distretto aerospaziale della Campania in collaborazione con la Fondazione Imaldi e con la Fondazione Idis Città della Scienza e patrocinato dalla regione Campania. E' volto a presentare le opportunità di cofinanziamento offerte dal network ESA Space Solution, nonché le opportunità ai progetti dell'ecosistema campano in ambito Space Economy e PNRR. Durante l'evento sono stati presentati due programmi commerciali dell'ESA, compreso il loro funzionamento, le modalità di accesso e alcuni casi studio e storie di successo di aziende già finanziate dai programmi. Presentato inoltre il programma Space Economy, le progettualità in ambito PNRR e i progetti finanziati. Luigi Carrino, presidente del DAC e Giuseppe Morsillo, presidente del Centro Italiano Ricerche Aerospaziali. Avere sul territorio una ricchezza di qualità, di presenza industriale di livello altissimo, di centri di ricerca che sono noti a livello mondiale, deve diventare un'opportunità per creare lavoro, per sviluppare nuovi progetti tecnologici. Il PNRR ci dà alcune di queste possibilità, noi intendiamo sfruttarle al meglio e oggi parliamo di un bando specifico, con la certezza che le aziende del DAC sapranno cogliere questa occasione al meglio, come in tante altre occasioni. La Space Economy e l'attenzione a quelle che sono ricadute nello spazio, anche dopo i segnali così importanti che il PNRR ha dato allo spazio, con quasi un miliardo e mezzo di euro che vengono investiti in tante applicazioni, è un segnale della maturità e perfettamente in linea con il ruolo che il Paese ha nell'ambito del settore spaziale. La storia dell'Italia ci porta a essere tra i principali attori, di fatto il secondo in Europa per la dimensione della Space Economy come ricaduto, e il terzo nell'Agenzia Spaziale Europea per livello di contribuzione. Oggi le ricadute sono significative e anche il Centro Italiano di Ricerca Aerospaziale, naturalmente preparando il futuro, è un player importante nel quadro dell'innovazione.